e ciò mi ha fatto molto pensare questa voce che mi diceva perché non diventi musulman mi invitava lì e quando sono tornato ovviamente in Italia ho cominciato a leggere la Bibbia l'Evangelo e poi il Corano e sono andato una settimana a scuola di arabo e in questa scuola di arabo, questo insegnante in Italia, in Genova, a Medina Genova lui mi ha dato la frase e mi ha dato la sua al-Fatihah allora un giorno a casa mia erano le tre di notte mi sono svegliato c'era un bicchiere di acqua vicino al mio comodino mi sono sciacquato la bocca e ho cominciato a fare i sugiud e dicevo e io dicevo ma perché faccio questo se non sono musulmano capivo la illallah ma non capivo Muhammad fino a quando a 26 anni sono andato a Riyadh sono andato a Riyadh ma è una ziara una ziara un principe della famiglia di Sauda mi ha invitato amir 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 grazie a tutti